Ritorno all'appuntamento con i nostri consigli di lettura, anche questa settimana pronti a darvi qualche indicazione su un buon libro da leggere. Partiamo come sempre con un libro dedicato al santo di Pietrelcina edizioni Padre Pio da Pietrelcina e con un libro scritto da un figlio spirituale di Padre Pio, un medico, un padre, un marito che lo ha conosciuto e in questo libro vengono raggruppati tutti i suoi ricordi. Parliamo del dottor Francesco Lotti, Padre Pio nella mia vita quando lo straordinario era quotidiano a cura di suo figlio padre Luciano Lotti. In copertina questa bellissima foto del dottor Francesco Lotti con la sua consorte e Padre Pio, una foto in bianco e nero che davvero riassume la bellezza di quei tempi di chi ha avuto la grazia di conoscerlo. Racconta a pagina 115 il dottor Lotti, 1958 un giorno d'estate, è l'ora di pranzo quando suonano alla porta di casa, delle persone che si presentano ne conosco una, Mimì Petruccelli il barone, gli altri all'aspetto sembrano i membri di una famiglia contadini in abiti da festa, tutto in nero, lui sui 40 anni massiccio con il viso segnato dal sole, con un fazzolettone in testa scuro, la gonna lunga, le caviglie, lei sono fittavoli del barone, vengono da Reino in provincia di Benevento, tra le braccia del padre giace un bambino sui 5-6 anni, gli occhi aperti, rovesciati in alto, la bocca serrata, il corpo agitato ritmicamente da scosse muscolari, ci manda padre Pio, possiamo entrare? La voce dell'uomo è bassa, lui comincia a parlare ma fatica a spiegarsi, interviene Mimì, Carmine, il ragazzo, è affetto da epilessia, è stato ricoverato più volte al Policlinico di Napoli, nella divisione di neurologia, nonostante le cure la situazione è andata peggiorando, negli ultimi giorni i medici hanno parlato chiaro con i genitori, si è instaurato uno stato di male epilettico, i farmaci non fanno più effetto e i genitori decidono di portarlo a casa, perso per perso era intervenuto a quel punto Don Mimì, andiamo a San Giovanni Rotondo, in braccia a papà, Carmine ha incontrato padre Pio nel corridoio che porta al refettorio, come lo ha visto il padre si è molto turbato, gli ha messo la mano in testa e poi ha detto portatelo a casa del dottor Franco Lotti e diteli da parte mia che gli dia quella medicina che gli ho consegnato l'altra sera e raccomandatevi alla Madonna. Capitava spesso che al momento di ritiarsi nella stanza padre Pio si ritrovasse tra le mani lettere, fotografie, oggetti vari consegnati da persone che erano riuscite ad avvicinarlo. Due sere prime in effetti mi aveva dato un pacchetto dicendo è una medicina, vedi un po' di che cosa si tratta. L'avevo presa e messa da parte, adesso l'apro. Si tratta di una confezione in cartina di un farmaco in commercio a base di bromuro di potassio, polvere di genziane e carbonato di ferro. Un calmante del sistema nervoso galenico piuttosto antiquato. Si le cartine le ho trovate ma francamente rispetto ai trattamenti che Carmine ha già fatto in clinica queste sono acqua fresca. Male non possono fare intendiamoci ma non so neppure se riesco a fargliene inghiottire. Azzarda la mamma se padre Pio ha detto così. Mi decido verso mezza cartina inghiudita d'acqua e con un cucchiaino a goccia a goccia faccio scolare il liquido in bocca. Mi fermo in queste condizioni c'è il rischio di soffocarlo. Basta così se riprende coscienza dateli mezza cartina mattina e sera. Penso molto a Carmine nei giorni seguenti. Ho detto a padre Pio la sera stessa dell'incontro con il bambino quello che è successo ma lui non ha fatto commenti. È passato dal tempo più di un mese. Hanno suonato alla porta e vado ad aprire. C'è Agostino, il papà, la mamma e Carmine in mezzo a loro. Il viso è imbronciato e stanco del viaggio. Li faccio entrare. La mamma solleva lo scialle e mi porge la scatola da scarpe piena di uova. Accettate questo pensiero. Sono fresche di giornata. Carmine sta bene, è normale. Le convulsioni sono cessate. Adesso andiamo in chiesa a ringraziare la Madonna e padre Pio. Questa è una delle tante storie, dei tanti ricordi del professore Francesco Lotti che appunto racconta di come padre Pio è entrato nella sua vita e in tutta quella della sua famiglia. Padre Pio nella mia vita quando lo straordinario era ordinario di Francesco Lotti a cura di suo figlio Fra Luciano. Il cardinale Angelo Comastri firma per la San Paolo questo libro intitolato Smettiamo di ingannare i giovani. Suona l'allarme ma facciamo finta di non sentire. Voler bene i giovani, dice il cardinale Comastri, significa far loro del bene, cioè aiutarli a uscire dall'egoismo per nascere la vita dell'amore autentico e pertanto appagante. Vi leggo un passaggio. Questo libro è nato tra le lacrime, scrive Comastri. Mi spiego. Quando recentemente ho letto la cronaca di ciò che è accaduto a Manduria, è trascorso un anno ecco, sono scoppiato a piangere. Ha pensato un gruppo di ragazzi, quasi tutti minorenni, hanno letteralmente torturato un uomo psicologicamente fragile fino ad ucciderlo. La crudeltà manifestata da questi minorenni è impressionante e preoccupante. Dovrebbe spingerci a ricercare le cause che generano giovani così vuoti, così crudeli e così pericolosi. Certamente la prima causa è la mancanza di una vera e sana educazione. Un'educazione capace di trasmettere ai giovani la consapevolezza che la vita non è un gioco ma è un impegno. La vita non è un trastullo ma è una missione della quale dovremmo rendere conto a Dio. Il fallimento educativo è davanti agli occhi di tutti. La prima parte di questo libro cerca di documentarlo con fatti precisi, concreti, drammatici. La seconda parte del libro intende rispondere a questa domanda. Dove si trova la felicità che i giovani cercano ma non trovano? Partendo dalla testimonianza di Madre Teresa di Calcutta, sottolineo che la felicità si trova soltanto aiutando i giovani a uscire dall'egoismo e non innaffiando il loro egoismo come oggi accade. Come prova della mia affermazione racconto storie di vita che parlano, anzi gridano che la felicità abita nella bontà, nella carità, nella generosità, nel servizio gratuito e disinteressato verso tutte le forme di fragilità che aspettano una mano amica e fraterna. Sembra un paradosso però curando la sofferenza degli altri si esce dalla propria sofferenza. Quando si esce dal vuoto interiore si assapora la gioia stessa di Dio, la gioia dell'amore. Un solo esempio. Dopo un incidente sulla strada statale adriatica nella quale persero la vita due giovanissimi appena usciti da una discoteca, corsi sul luogo perché conoscevo uno dei due giovani. Trovai un gruppo di coetanei tristi e desolati fino al punto che uno di loro mi disse padre che cavolate la vita. Lo lasciai sfogare e poi gli dissi ascoltami la vita, la vita vera un'altra lettura. Ascolta ciò che ha detto madre Teresa di Calcutta proprio riguardo alla vita e lentamente gli lesse questo inno alla vita uscito dal cuore di madre Teresa di Calcutta. Vi leggo solo un passaggio. La vita è promessa adempila, la vita è tristezza superala, la vita è un inno cantalo. Questo è un libro davvero ricco di spunti di riflessione se siete adulti, educatori, catechisti, insegnanti, anche e soprattutto se siete giovani. Smettiamo di ingannare i giovani, il cardinale Angelo Comastri firma questo libro per la San Paolo. A proposito di giovani, di sofferenza e di felicità, sono due parole che ricorrono spesso appunto quando si parla dell'esistenza dei giovani. Vi presento questo libro, è firmato da un sacerdote francescano nato in Spagna, venuto a mancare qualche tempo fa, Ignacio Laragnaga, che firma per la San Paolo, dalla sofferenza alla pace verso una liberazione interiore. Queste pagine che intendono suggerire al lettore mezzi pratici, proprio consigli pratici, istruzioni per l'uso, insomma, affinché si possa da soli attenuare, neutralizzare o almeno attenuare ogni tipo di sofferenza, quindi indicare, cercare la strada che indichi la strada appunto della liberazione interiore. Purtroppo non è sempre facile e i primi tre capitoli di questo libro sono dedicati a chi non ha fede o ha la fede molto fragile. Il quarto a coloro che hanno una fede forte e feconda e prevalentemente si muove secondo una prospettiva psicologica e umana senza però trascurare l'ottica cristiana. Vi leggo un passaggio. Pazienza. Poche settimane dopo la nascita gli uccelli volano, le anitre nuotano, i gatti vanno a caccia. 15 minuti dopo essere venuto alla luce un lama si alza in piedi e comincia a salire dietro la madre sulle montagne. Non è così per l'uomo. Appena nata la creatura umana è l'essere più vulnerabile della creazione. Devi imparare tutto e non esattamente attraverso un'ispirazione interiore, ma sono gli altri che li devono insegnare. Per prima cosa a camminare, poi a parlare, più tardi a pensare e a educarsi. Imparare, insomma, a usare l'intelligenza al posto dell'istinto, con la particolarità che l'istinto funziona spontaneamente in modo quasi meccanico. Invece l'uso dell'intelligenza prevede dei rischi in quanto obbliga l'uomo a realizzare un complesso processo di analisi, confronto, esclusione. Tutto ciò racchiude grandi incertezze e imprevedibili eventualità. E per questa via giunge l'uomo ad uno spiacevole visitatore che come un'ombra non si separerà mai dal suo fianco. L'ansietà. L'apprendistato dell'arte di vivere non termina quando l'uomo diventa maggiorenne o nell'ottenere un diploma universitario per esercitare una professione ed essere autonomo. Perché vivere non consiste nel guadagnare il sostentamento quotidiano o nel formare una famiglia. Vivere è l'arte di essere felice e ciò vuol dire liberarsi in grado maggiore o minore di quella ansietà che in ogni modo si ostenderà a seguire i passi umani fino alla frontiera finale. L'arte di vivere consisterà quindi in un progressivo superamento della sofferenza umana e per questa via in una lenta conquista della tranquillità della mente, della serenità dei nervi e della pace dell'anima. Solo un piccolo assaggio di quello che è riportato in questo libro, molto bello, molto profondo, di un sacerdote francescano, appunto Ignacio Laragnaga, intitolato Dalla sofferenza alla pace verso una liberazione interiore edito dalla San Paolo. Concludo con questo libro edito dalla LDC firmato da Gioele Anni. Anche a Dio piace scherzare a tu per tu con protagonisti della Chiesa. È un libro in cui Gioele Anni riporta un laico, riporta i dialoghi con personalità importanti del mondo della Chiesa, da cardinali a monsignori, dal cardinale Tagle, arcivescovo di Manila, a monsignor Pizzaballa, amministratore apostolico di Gerusalemme. Un caso tra tutti, per capire anche un po' perché anche a Dio piace scherzare, perché il cardinale Tagle, arcivescovo di Manila, uno dei papabili all'ultimo conclave, e uno dei collaboratori anche più importanti di Papa Francesco, pensava di diventare medico e poi si è ritrovato per scherzo alle prove di selezione per entrare in seminario ed è diventato quello che oggi. Anche a Dio piace scherzare è edito dalla LDC a tu per tu con i protagonisti della Chiesa, firmato da Gioele Anni. E con questa segnalazione vi ringraziamo per essere stati con noi anche in questa puntata di Tra le righe. Appuntamento alla prossima settimana.